In tutta la Puglia tra cementificazione e abbandono si contano ad oggi 158.695 ettari di terra divorati, di cui 500 soltanto nell'ultimo anno. Nonostante questo, con i suoi 245.000 ettari di aree naturali protette, la nostra si conferma tra le regioni più green d'Italia. Sono i due volti del territorio fotografati con numeri alla mano da un report di Coldiretti, nella giornata mondiale dell'ambiente, istituita dalle Nazioni Unite il 5 giugno. Tracciamento e abbandono della superficie agricola potenzialmente utilizzabile, il rischio frane alza il passo su un territorio via via meno ricco e più fragile. A ciò si aggiungono poi cambiamenti climatici con eventi estremi e improvvisi, come nubi fragili, grandinate e trombe d'aria, che si alternano a lunghi periodi siccitosi. Basti pensare che nella sola provincia di Lecce il rischio idrogeologico ricade sull'81% dei comuni. Soltanto note negative nella giornata più green dell'anno? Assolutamente no. Con le sue 632 specie autoctone e vegetali a rischio di estinzione e con i suoi 245.000 ettari di aree naturali protette, la Puglia è annoverata comunque tra le regioni più green d'Italia, che però è a forte rischio idrogeologico e di desertificazione. Sono i prodotti DOP, DOC e IGP a salvaguardare un primato che sa di speranza e che deve essere salvaguardato, perché i rischi non abbiano la meglio sulle potenzialità che rendono unico questo territorio.